Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un incidente adesso risolto ci sono due chilometri di coda in diminuzione tra in Cisaregello e Arezzo. In direzione Bologna invece per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla A11 a causa di un guasto all'impianto l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze è sprovvista di benzina. Sulla A12 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Pisa Centro e il Vivio per la A11 in direzione Genova. Su raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.